per favore di non non mi dovete non mi dovete non mi dovete ma non mi dovete buttare su instagram riempire di storie di altre persone mi avete riempito in 5 minuti di storie di merisiel perché ha messo una storia con il con il suo corpo con la mia faccia quindi vorrei anche dirle che la trovo molto attraente ma sarebbe completamente un monologo alla mia bellezza e sarebbe una cosa molto egocentrica da fare proprio che non si addice al mio personaggio perché si oggi ero un po' stanco quindi blur 2 l'ho lasciato a letto oggi è blur 7 se non vi dispiace ovviamente perché l'immagine del cazzo me l'hanno inviata a me mi state riempiendo letteralmente ciò marza con le tette jtaz con la fica di fuori io su altri corpi cristo santo quindi non c'è bisogno che mi mandate le storie di altre persone perché veramente non ce n'è bisogno non ve ne preoccupate manda ok tt2 con la fica semmai la mando su telegram occhiolino